ciao a tutti ragazzi parliamo ancora di tattiche di fifa 23 questa volta puntiamo il nostro focus su una tattica un po più dedicata al centrocampo quindi parliamo del rombo parliamo della 4312 che effettivamente è su fifa 22 mi ha tolto qualche soddisfazione e anche qui devo dire che sta girando abbastanza bene come sempre follow youtube e poi andiamo in game eccoci qua questa informazione aggiornata piano 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 devo ancora sbustare un po di roba e andremo dopo allora andiamo a vedere le tattiche personalizzate in questo momento l'ho piazzata come ultra offensiva ma non ha senso questa cosa è solamente una comunità di scelta dei tasti in game allora se non sapete come si scegliono le formazioni durante il gioco quindi in game c'è un video che vi linko in descrizione li spiego tutto perfettamente è nella playlist di fifa per principianti così è tutto chiaro allora come andiamo a giocare con questa tattica ampiezza cerco di stare leggermente stretto non tantissimo però cerchiamo di non dare troppo spazio alle maglie difensive perché i filtranti sono abbastanza periclosi in questo momento profondità 60 non voglio andare troppo avanti ma neanche troppo indietro quindi 60 secondo me è abbastanza interessante sono un po indeciso magari verso 65 però non si stanno schiacciando tantissimo come lo scorso anno quindi secondo me non è male 60 equilibrato la costruzione della manovra qui ovviamente serve per avere massima libertà di gestione dei giocatori come terrestre lo stile di difesa invece la creazione occasioni preferisco avere passaggi diretti perché i miei giocatori cercano di rendersi pericolosi praticamente instendosi alle spalle e insomma i giocatori veloci quindi hanno più possibilità di trovare pertugi ampiezza 50 anche qui nella manovra attacco non voglio essere troppo largo perché poi questa qui è una tattica che si sviluppa in centrocampo logico che i due centrocampisti laterali fanno un ottimo lavoro a livello esterno però non sono due ali quindi devono stare più o meno vicini al centrocampo giocatori in area non voglio sbilanciarmi troppo per i contropiedi quindi solamente tre stesso ragionamento angoli e punizioni modulo è questo quindi 4 3 1 2 istruzioni allora terzini resta in attacco non voglio che salgano in questo momento ci pensano i centrocampisti a fare un po di gioco mettiamola così il cdc l'unico cdc che ho resta in attacco e copertura al centro lui deve essere un libero davanti alla difesa un mediano di vecchio stampo i laterali ovviamente diaz è un centrocampista adattato lui è un ala però in centrocampo ha buoni piedi quindi mi va bene attenzione gli ho messo solamente nulla praticamente lui deve i due centrocampisti devono rimanere completamente liberi e soprattutto avere modo di coprire sulle fasce perché sono loro i laterali se andiamo a coprire invece al centro siamo troppo stretti quindi questa cosa non va bene lasciamoli completamente liberi senza istruzioni attenzione al coc il regista praticamente gli ho messo solamente rientro in difesa questo perché per non avere troppo di stacco tra l'attacco e il centrocampo quindi do una mano in centrocampo lo stesso vale per i due attaccanti davanti devono essere completamente liberi quindi non voglio dargli istruzioni però voglio chiedere una mano al centrocampo perché in questo momento del gioco non è semplicissimo difendere quindi meglio avere un supporto in più per poi ripartire insieme parliamo quindi dei giocatori necessari per una formazione simile allora purtroppo dovuto adattare un giocatore quindi in questo caso diaz a fare il centrocampista giocare puramente con la 4 3 1 2 non mi convince nel senso che preferisco partire con un po più coperto la 4 2 3 con la 4 2 3 1 in maniera da avere una squadra più bilanciata e poi in game a seconda delle partite preferisco poi cambiare quindi adattare effettivamente un attaccante come centrocampista diaz fa un buon lavoro quello assolutamente ovvio che il cdc deve essere puramente difensivo ho scelto che si un po perché mi piace il giocatore poi comunque è alto alto come rendimento quindi è sicuramente interessante come laterale ho messo iorente iorente invece come giocatore poi è un po più sbilanciato verso l'attacco quindi diciamo che da una mano in attacco normale in centrocampo e va bene in difesa va bene così diaz ripeto è adattato quindi va bene ovvio che fekir è il mio coc è il mio regista poi andando avanti nel gioco sicuramente lo cambierò con qualcuno di un po più preciso un po più agile un po più regista la neymar mettiamola così anche se neymar effettivamente è adattato a quel ruolo però è ottimo come coc perfetto dai ve l'ho più o meno raccontata i difensori sono i classici uno un po più veloce uno più corpulento i terzini per adesso rapidi vanno bene poi ovviamente con l'avanzare del gioco quando poi si avrà tutto un po più semplice da capire a livello di meta andremo poi a delineare alcuni piccoli dettagli ma in questo momento devo dire che mi sta piacendo come come alternativa la mia 4231 ragazzi torniamo in regia eccoci qua allora sinceramente sto usando sia la 4231 che la 4312 molto molto spesso le switcho spesso in game perché ho visto tante persone che o giocano a specchio quindi a 4231 oppure usano una 442 diciamo che sto cercando un'alternativa vaida e rombo secondo me è quello un po più semplice ma anche molto vaido quindi per chi vuole sta iniziando a giocare adesso secondo me le due tattiche che ho fatto vedere sono molto molto basi molto semplici da capire se poi avete qualche suggerimento avete fatto qualche modifica eccetera fatemola sempre nei commenti andiamo un po a fare qualche paragone ragazzi come sempre follow canale youtube mi piace al video ci vediamo al prossimo filmato ciao a tutti